Buongiorno, sono Valentina Lenti, vengo da Gruttaglie in provincia di Taranto e vi volevo parlare del corso di Andrea Di Giglio di pasticceria. Io ho un panificio con la mia famiglia e gestisco la produzione della pasticceria da forno. Cercavo un corso, non che mi desse le basi, perché comunque io già lavoro in pasticceria e quindi ho già acquisito le nozioni principali, ma mi serviva un corso che perfezionasse il mio lavoro e che mi desse nuovi spunti per la realizzazione dei nuovi prodotti da poter poi presentare ai miei clienti. Così ho trovato questo corso che mi ha letteralmente sbalordito perché ho visto immediatamente come lo chef Andrea Di Giglio spiegasse in maniera così semplice passaggi che magari possono sembrare un po' più complicati in modo così semplice e dettagliato. È un corso completo secondo me, è forse unico nel suo genere perché non ho mai trovato su internet dei corsi così dettagliati, così pieni di ricette che spiegassero in quel modo come fa lui una determinata ricetta. L'altra particolarità di questo corso che mi ha davvero sbalordita è stata il riuscire a comunicare con lo chef per ogni problema, per ogni dubbio che mi veniva su una determinata ricetta. Lui è presente online, ti risponde per ogni... dandoti ogni aiuto possibile e spiegandoti ulteriormente aiutandoti appunto ad affrontare ogni passaggio e ogni passaggio e ogni problema che ti si pone al momento. Lo consiglio davvero, sono felice di aver acquistato questo corso e lo consiglio a tutti. Grazie e buona giornata.